No, no, no! Se sul contratto c'è scritto così, si fa rispettare il contratto e basta! Eccomi, tutta per te! Senti, se shortassimo subito la serata per capire se può esserci un finale interessante, lo dico in ottica di ottimizzare il timing? La trasparenza forse non è adatta al primo appuntamento, ma è basilare quando si cerca una nuova macchina da comprare. Tomasi Auto, la tua auto in totale trasparenza!